Con il progressivo arretramento dei ricoveri covid, il Santo Stefano torna lentamente alla normalità. La priorità assoluta è smaltire il carico accumulato sul fronte degli interventi chirurgici programmati che sono stati necessariamente ridotti al minimo perché spazio e personale sono stati dedicati all'emergenza covid. Sarà quindi un'altra estate di intenso lavoro per i settori chirurgici che, grazie a un potenziamento dell'archirurgia ambulatoriale e della sinergia con il privato accreditato, sono riusciti a garantire gli interventi programmati oncologici, oltre che le urgenze. L'organizzazione è orizzontale con gli ospedali dell'azienda a rete per sfruttare al massimo spazio e professionalità. Per quanto riguarda gli interventi complessi oncologici, il Santo Stefano è hub centrale per il testa-collo di cui il primario Antonio Sarno è considerato uno dei massimi esperti a livello internazionale. Per quanto riguarda l'attività oncologica minore, dunque quella di primissimo livello, con la quale abbiamo collaborato in maniera assolutamente fruttifora con Villa Fiorita, e per quanto riguarda la patologia non oncologica urgente. Per la chirurgia generale, oltre a Villa Fiorita, è entrata in campo anche Villa Donatello, a Sesto Fiorentino. Parliamo di interventi sul colo, interventi sullo stomo, e abbiamo continuato la collaborazione anche con Villa Fiorita, dove vengono dislocati e operati pazienti, soprattutto in chirurgia senologica. Adesso, in questi ultimi mesi, a Villa Fiorita abbiamo cominciato un'attività anche di chirurgia minore, che riguarda pazienti, portatori di ernie inguinali, calcolosi della colecisti. È importante precisare che il privato ha messo a disposizione spazi infermieri e anestesisti, il resto è ASL. Possiamo sempre noi a operare, lo strumentario è sempre il nostro. Proprio per colmare la mancanza di anestesisti è stata adottata una nuova tecnica chirurgica per effettuare le ernie inguinali più semplici con la sola anestesia locale, in modo da alleggerire la lunga lista di attesa. Abbiamo creato sedute doppie il sabato, due sedute di queste tipologie di pazienti che stazionano nelle divani, nelle seggiole dedicate a questi pazienti, un paio d'ore, due o tre ore per essere dimessi la stessa mattina dell'intervento. Abbiamo già operato una centinaia di persone che altrimenti avrebbero dovuto aspettare la ripresa delle normali attività. Non solo, sul programmato non urgente si è previsto un costante e diretto monitoraggio dei casi in lista, in modo da intervenire prontamente in caso di peggioramento. Attraverso il loro peggioramento clinico abbiamo dato disponibilità di un ricovero diretto senza passare dal pronto soccorso, in accordo col chirurgo, in accordo col bed manager per l'occupazione di posti letto, attraverso l'effettuazione di un tampone il giorno precedente, ricovero il giorno successivo e intervento nell'arco di 24-48 ore di pazienti altrimenti non sarebbero mai stati operati. Noi saremo estremamente felici di poter fornire la nostra azione anche durante il periodo estivo per poter tornare il più possibile in pari con l'attività programmata.